Gentili telespettatori, buona giornata. Vi ricordate quella pubblicità? Non ci vedo più dalla fame, ve la ricordate? Una pubblicità che è andata avanti per vent'anni. Non ci vedo più dalla fame. Va bene. Luciana Lettizzetto invece non ci vede più dalla rabbia contro il governo che ha gentilmente fatto notare a lei e al suo capo Fabio Fazio che non erano più graditi. E loro sono andati comunque da Discovery a prendere un contratto. Adesso non so qual è il contratto della Lettizzetto ma Fazio ha due milioni e mezzo all'anno. La Lettizzetto non lo so, magari gli danno 500 mila all'anno, non ne ho idea. Magari si becca mezzo milione di euro all'anno. Magari di più, magari di meno, non lo so. Però, toma, la Lettizzetto è andata di là con Fazio a guadagnare di più. Però gli dà estremamente fastidio che sono stati invitati ad andarsene. Bene. Interviene al salone del libro per tornare sulla scelta di accettare una nuova offerta professionale ed economica lontano dalla RAI. Dice Preparatevi al politicamente corretto ormai quando scrivi sai qual è il tariffario delle polemiche che ti travolgeranno. Il comico non è politicamente corretto altrimenti non fa ridere ed è per questo che ci vedremo tutti alla nove. Sì, sono d'accordo. Il politicamente corretto è una roba che ci sta rovinando. il politicamente corretto con il politicamente corretto tutti i film, quelli di Abba Tantuono Paolo Aviletto è tutto incorretto è tutto incorretto perché tu oggi non puoi dire quello che pensi su una persona su un gruppo di persone su una società su uno Stato non puoi dire niente di quello che tu pensi ma devi dire sempre e comunque che tutto è bello tutti siamo amici tutto va benissimo che tu ami tutti ami tutti quelli che intorno li ami che tu non ce l'hai con nessuno che tu non hai un pensiero diverso dalla massa che deve pensare per forza che il mondo è bello e tutti ci amiamo e tutto è corretto quella roba lì è giusta e quella è giustissima e quella cosa lì quella è il bassimo ecco questo è il politicamente corretto non puoi più scherzare non puoi più ridere perché se tu scherzi stai prendendo in giro qualcuno come ti permetti se tu ridi stai prendendo in giro qualcuno se fai una battuta è perché stai prendendo in giro qualcuno o qualcosa è ovvio che la comicità non può essere politicamente corretta non può siamo arrivati al ridicolo ma andiamo avanti e lei dice la tv dei giorni nostri ai confini della tv in televisione non si può più sperimentare e così succede che i gialappi iniziano domenica il programma su TV8 e io sulla 9 tiè poi regola i conti su una questione per rispondere in modo a Salvini che aveva salutato Luciana e Fazio con un belli ciao sui social dice pensa te belli ciao da un vicepresidente del consiglio che inquietudine quando in prima fila c'è qualcuno che non ride succede anche a me a che tempo dice e i gialappi presenti anche loro al salone dicono magari quello in prima fila è Salvini e Letizetto dice ma va a che tempo Salvini non viene la busta gliel'hanno consegnata tante volte ma non viene e poi a che tempo mi fanno entrare sempre dopo e le mie zie mi dicono vai in onda troppo tardi fatti mettere prima insomma possiamo dire che Salvini come vi dicevo l'altro giorno fa il Salvini cioè quello che fa e dice Salvini attira le critiche e da lancia la palla per fare la schiacciata alla sinistra cioè Salvini è un assist per la sinistra perché su dieci cose che dice 9,8 sono sempre degli autogol l'ultima non avete sentito quella l'alluvione paragonato con la partita del Milan che non gli piaceva ma 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 dico io ma dico e poi è andato a cancellare il post ma dico io ma dico io Salvini potrebbe fare qualsiasi lavoro meno che il politico diciamo che lui ha avuto la fortuna perché lui è cresciuto è cresciuto politicamente in un partito dove dove il Salvini è il promedio diciamo che nel senso Salvini è stimato dai leghisti e i leghisti cioè Salvini stima i leghisti i leghisti stimano Salvini perché sostanzialmente sono uguali sostanzialmente sono uguali chi non è come Salvini se ne è già andato attenzione Salvini dal 4 al 34 e all'8% vuol dire che dall'8 al 34 quel bel 16% se ne è andato proprio perché non si riconosce in Salvini quindi oggi Salvini viene osannato dai suoi perché Salvini è come i suoi e i suoi sono come Salvini quindi lui ha potuto fare carriera nella lega perché è così perché è così e non so ne ha combinate nel tempo una dietro l'altra una dietro l'altra quindi ogni cosa che dice sono delle cose un po' cioè andare ad esultare perché va via Fazzi la Letizietto ma zitto vanno via fai il signore e dici auguri di buon lavoro avranno trovato di meglio non so bene cosa è successo professionisti tutti un po' schierati però insomma buon lavoro ma belli ciao a belli ciao belli insomma se un vicepresidente del consiglio un vice della Meloni scende a fare praticamente il tie che siete andati via insomma definisce Salvini e fa e alza la palla per fare la schiacciata da parte della sinistra insomma Salvini fa il gioco della sinistra ecco e questo da tempo insomma quindi perché attaccano sempre Salvini e non la Meloni perché attaccano sempre Salvini e non Berlusconi perché la Meloni non avrebbe non tirerebbe mai fuori un'uscita di questo tipo vi vedete la Meloni che che scrive a belli ciao o che si mette la maglietta di Putin o o l'immaginetta in ufficio ossia la Meloni che si mette il cappello di Trump insomma diciamo che Salvini fa il Salvini e fa assist alle critiche della sinistra cioè è pane per i denti della sinistra pane per i denti della sinistra quindi naturalmente come vi dicevo ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti